buongiorno a tutti alla doc cromolo giustamente ovviamente modestamente attenzione stamattina c'è una bella giornata di sole giustamente sono è l'ora di pranzo giustamente stamattina vabbè oggi c'è una bellissima giornata alla doc perché quando le cose sono la doc niente non saranno mai alla doc e come vi avevo detto le altre volte noi le cose le facciamo diventare come vi avevo detto ieri che giustamente oggi dal mio padre vi faccio fare la capuzza al forno capuzza in italiano sicuramente l'italiano è una bella cosa parlare italiano sicuramente io sono consente a parlare un po in il dialetto pugliese e in italiano perché sicuramente devo fare anche ridere tutto il mondo tra il dialetto anche gianni cialdo il famosissimo gianni cialdo lui parlava lui è un attore lui è un attore e lui parlava sia in italiano e sia in dialetto come il famosissimo lino banfi perché noi siamo dalla pula giustamente i pugliesi parlano il dialetto in italiano per far ridere la gente bene oggi ci mangiamo la testa di agnello che giustamente in il dialetto parese si dice la capuzza ma dai guardate ma questa è talmente buona ragazzi guardate che questa se la andate a comprare ve la faccio pagare al cupachè ma ma ah dai che se ve la faccio pagare al cupachè ebbene andiamo inizio alle danze i fasoletti li abbiamo presi questi qua ci sediamo aggiustiamo la candy camera perché già me do te la ferma dai mamma questa l'ho fatta al forno al forno con pepe e sale e giustamente mo ma la mangio piano piano madonna me l'ho divisa e faccio all'addocco romo da brescello cotto e mangiato capuzza di agnello ma ma dici nella testa la carne non c'è guardate qui quella carne c'è madonna me questo è l'osso e e questo è tutta carne ma ma cotto e mangiato ma te zingati copio l'ho diventa sai ически capi qua papà vai dentro vai tende icia gestito ogni volta v�ufuoi poi andagi ii a trovare€ Vai là papà, e poi i miei fratelli e i tuorelli ti vogliono vedere. Buono! Ma dai! Ecco la mano, ma non mi piace mai. Cervello, cervello che è buono. Ma dai! E questa è la carne, guardate. Madonna me! Questo mi ha portato il mio cognato. Salutiamo carissimo Raffaele Stambelli, il mio cognato, mia sorella, Jose, e le mie nipote, Carol e Angela, alla doc. A storico, ti ha mangiato a rai. Vale! E' buono! E' buono! Acun da prigio. Ma dai! E' buono! E' buono! E' buono! Ma dai! Questa cosa vai a comprare! Ah! Bravo! Bravo Lino! Lino, Raffaele, lui si chiama Raffaele, ma io lo chiamo Semellino, io, tutta la famiglia. Madonna me! Adesso è. Ma ora arriva la bontà. Ma dai! Molto Shakeale проб Да lì lì che mangiava mia ... E' buono Now i s'encontrici di burble. E' buono che non fa perché è buono l'ergersione e cos'è. Corso dellaацanea. Vedete? ma ma ah 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 dai guardate questa canna guardate la strastra di corte stanno mangiando la rete questo oggi è il mio pranzo questa è la lingua poi animali che vengono mostrati giustamente vengono mostrati tanti animali per noi e giustamente dispiace purtroppo è la vita la natura dell'animale che nasce per essere mangiato tra noi è buono mangiare l'agnello io una volta l'ho visto da mangiare davanti poi per due o tre mesi non lo mangiavo più ora quando mi viene lo mangio perché è così se lo vedi davanti di mazzaro non te lo mangi più è la privacy dai per non dire matematica male il palato madonna 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 dove mostro il cadame il cadame la bontà madonna Cervello, quanto cervello! è un giud, un giud questo non esiste a mangiare con le forchette, è il costello dove è tutto il domani, tutto il domani, occhio, guardate che bell'occhio madonna me madonna, dove è mio cognato, madonna, se ce l'ha la latte riportamela io vi dirò a mio cognato, ho già tutte le forchette di vino allora, un favore, tira l'altro come fischi di fare il video, lo chiamare, lì no? com'è la capozza di a me, alla giove, dai? e sono anche salutato, me ne porti stavolta due? madonna madonna peccato la fornuta, maneggia la Michele, maneggia la fornuta, maneggia è giustato 5 minuti a mangiare madonna madonna la mano, tutto il mio uso, vabbè, poi me li vado a lavare, alla giove mamma aiii adesso ci facciamo un bel bicchiere di vino, alla giove merlot con il calice dei lupi uuuuuh ma, io vedo, avvito ma, il sangue chiamma sangue non è come l'ambrustro, non è l'ospera, ma ho fatto a cuore preso, ma dai alla vostra salute buono ma che è ma dai che se sei oggi questa è sete madonna meh un minuto un minuto sui salati non soffiate il naso bene ora, direttamente ora, direttamente dobbiamo salutare delle altre bravissime persone perché, direttamente pian piano dobbiamo salutare parecchie persone direttamente oggi al pranzo salutiamo salutiamo alla doc innanzitutto salutiamo il manager Alessandro buongiorno Alessandro alla doc alla super doc poi salutiamo il mitico Tony alla doc Valentina la ragazza salutiamo anche tutti i gruppi eh tutti i gruppi perché io di gruppi sì, no, ma non è che ci sono tanti a me tanti gruppi non tanto mi piace e salutiamo alla doc la bellissima Claudia mamma Teresa e Alessandro che giustamente Alessandro è il fratello di Claudia non Alessandro il manager questo un altro Alessandro eh non è che ci poi franchiamo nelle parole io vi ho detto Alessandro il manager è uno questo Alessandro è un altro oh e poi salutiamo i mitici del pranzo perché giustamente io devo accontentare tutti quanti cioè tanti 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 no, però piano, piano piano, 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 piano voi dici ma perché saluti insieme Claudia è un mio problema se la devo salutare e non lo do con soddisfazione nessuno ehhh sono fatti i miei ahahahah da claudia ti amo ma salutiamo il mitico grandissimo lorenzo brai e gabriele marullo è un grandissimo saluto speciale a leonardo rigorio ciao niente io che cosa vi devo dire di più io vi auguro una buona e splendida giornata perché c'è una bellissima giornata fuori che ora vi faccio vedere all'addorio innanzitutto prendiamo l'addorio che è dove rimane la secca ma dai fin quando è la good prince ma ma io buono dai vi faccio vedere fuori ora che tempo c'è qui c'è jessica jessica vieni qua papà vieni papà vieni fatemi vedere bella papà lei dorme sempre lei dorme sempre e niente dai jessica papà vai fuori la giornata oggi diciamo che è apprezzabile è un po' nuvoloso però diciamo che diciamo che può andare dai il mio motore è sempre lì alla dock e niente questa è la mia tana che giustamente la mia tana la conoscete la tana di batman ora che vi devo dire faccio un po' di pulizie che cosa fa ascolto un po' di diretta seria normale senza fare i monelli però perché giustamente oggi mi sono fatto bello per voi guardate madonna me con il codino guardate avete visto il codino alla dock comincia a crescere giustamente fa caldo giustamente siamo in tenuta a maglietta giustamente io questi gio questi giorni giustamente vi prometto che io voglio fare la palestra ma purtroppo mocca mezza fa caldo e quando fa caldo l'aria ma prima o poi mi devo allenare e niente prima o poi mi devo allenare che vi devo dire fratelli e sorelle signori e signore ragazzi ragazze amici amiche io vi ringrazio come sempre cotto e mangiato termina qui vi auguro sempre un buon sabato a tutti alla vostra salute un'altra persona la devo salutare perché giustamente questa persona intanto mi pensa anche a me alla dock salutiamo il grandissimo Vito Russorto alla dock perché lui è un mio amico e siamo vicini di casa e giustamente certe volte fa un po' il monello però io lo voglio bene come un fratello vi auguro di nuovo una buona giornata a tutti alla vostra salute con un bel bicchiere alla lupo alla salute buono!